Impennata di nuovi casi di coronavirus in Toscana, 61 in più, mentre ieri i nuovi positivi erano stati 23. Non si registrano per fortuna nuovi decessi. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1%, gli attualmente positivi sono oggi 510 più 11,6% rispetto a ieri. Riguardo ai nuovi 61 casi, 17 sono da ricondurre a un cluster già noto in provincia di Massa Carrara, 8 sono in provincia di Arezzo e sono relativi a un gruppo di giovani italiani rientrati da una vacanza all'estero, più due contatti, così come due casi rilevati rispettivamente nel Senese e in provincia di Grosseto, anch'essi rientrati da una vacanza all'estero. Infine i casi rilevati in provincia di Lucca, Pisa e Livorno sono riconducibili a casi rilevati nella zona della Valle del Serchio nei giorni precedenti. Diminuisce anche l'età media dei contagiati, infatti è di circa 32 anni e il 77% è risultato asintomatico, il 19% paucisintomatico, il 4% con stato lieve. Le persone sono tutte in buone condizioni e in quarantena. In totale da inizio epidemia la Toscana ha avuto 10.644 casi e 1.137 decessi.